WSK Euroseries 2011, terzo round a Muroleccese e in pole position per la categoria KF1 c'è Nick De Vries. Alle sue spalle, o meglio, al suo fianco c'è Ignazio D'Agosto, poi Alexander Albon, Zenech Groman e Jordan Chamberlain in quinta posizione. Sesto il maranello di Mikko Pacari, settimo Sebastien Belli. Adesso i piloti entrano nel binario, c'è qualcuno che alza la mano, vediamo se danno partenza valida. Partenza valida, partenza valida. Nick De Vries mantiene la posizione, cosa che ha fatto per tutto il weekend nelle due manche di qualifica. Lui non ha avuto praticamente avversari, solo Ignazio D'Agosto al via della seconda manche è riuscito a condurre la gara per una manciata di giri, ma poi il ritmo di De Vries è stato straordinario. Vedete Alexander Albon che al momento è in seconda posizione, che in una manche ha fatto secondo, nell'altra ha fatto quarto, è stato comunque anche lui molto veloce, guardavamo i rilievi cronometrici, anche lui insomma ha girato con tempi molto vicini a Nick De Vries. E non si sa mai che magari adesso ci prova, e sì, e sì, Alexander Albon ci prova e si mette dentro anche Ignazio D'Agosto. Toccano Nick De Vries e Jordan Chamberlain, mi pare abbia toccato Nick De Vries. Si mette di franco Jordan Chamberlain, dietro c'è anche Flavio Camponeschi, passa Jordan Chamberlain. Nick De Vries in quarta posizione, porca miseria, quinta posizione perché passa anche Flavio Camponeschi. Ma dentro si mette anche Zeneg Roman e anche Matteo Viganò che adesso, no, Matteo Viganò non è, è Mico Pacari, scusate, dietro a Nick De Vries. Intanto là davanti c'è Alexander Albon seguito da Ignazio D'Agosto. È una condizione realmente strana questa per Nick De Vries, perché il pilota olandese, ricordiamo, già sotto contatto dalla McLaren, due weekend fa era in pista a Wackershoff per giocare appunto le gare del campionato del mondo. E intanto adesso Nick De Vries passa a Groman e quindi adesso va a guadagnare la quinta posizione pilota olandese. Dicevamo appunto prima, due settimane fa, De Vries era in Germania a Wackershoff per il campionato del mondo. Il campionato del mondo che si è corso con una formula nuova, un po' contorta forse, comunque quattro finali durante tutto il weekend. Lui ha vinto tutte e quattro le finali quasi giocando con tutti gli altri, stessa cosa che ha fatto anche questa mattina nelle Manche. Mentre adesso appunto, come dicevo prima, è una situazione un po' stramba perché per l'olandese, per la prima volta, c'è qualcuno davanti all'olandese. Alexander Albon che conduce la gara sembra avere un ottimo margine rispetto a Ignazio D'Agosto. Nick De Vries me lo sono perso ma comunque ha giocato, ha sorpassato Chris Locke, ha sorpassato, scusate, Flavio Camponeschi e ora andrà a prendersi la terza posizione che era al momento occupata da Jordan Chamberlain. Nel momento non abbiamo i rilievi cronometrici ma sicuramente è tolto il casino, la confusione del primo giro. Sicuramente Nick De Vries adesso può avere tutto il materiale a posto e andare a girare con il ritmo con cui ha girato nelle match di oggi e anche nelle prove di qualifica di ieri, nonostante comunque non abbia guadagnato la prima posizione che è andata a Carol Bats. Le condizioni della pista qui sono, insomma la pista è stata rinnovata, avete visto il servizio che abbiamo pubblicato su ticart.it proprio ieri sera in cui come vedete l'asfalto della pista ha un colore nero molto scuro rispetto al colore tradizionale dell'asfalto perché è stato ricoperto da una speciale resina che ha il vantaggio di offrire molto grip. Questa è una condizione che è piaciuta ad alcuni piloti perché effettivamente sembra di guidare quasi quando si correva anni fa con la vecchia Formula A quando si depositava qualche centimetro di gomma all'interno della traiettoria però questa situazione ad altri piloti non è piaciuta proprio per questa gomma perché come magari sicuramente vedrete in qualche curva dalle riprese qui di Gabriel il ripetitore è Gabriel della rinnovazione di ticart da ticart.it mentre guardate appunto Nick Davis come si è avvicinato a Jordan Chamberlain gli è praticamente in scia chissà se gli renderà la toccatina che gli ha dato prima Chamberlain infatti lo porta fuori ma tutto regolare, anzi regolarissimo e adesso Nick Davis l'olandesino volante si lancia all'inseguimento di Ignazio D'Agosto che al momento sembra essere in seconda posizione con Alexander Albon che è indisturbato in prima dicevo in frenata in traiettoria si deposita questa gomma che comunque crea dei problemi ai piloti perché lì la pista attacca molto e quindi in alcuni casi il kart si ferma perché tocca sotto è successo nelle marche di qualifica che il parouti anteriore addirittura si staccasse ma quindi alcuni piloti piace questa cosa ad altri non piace questa situazione anche perché in caso di sorpasso il pilota che sorpassa si va a sfruttare la parte di pista giusta ma il pilota sorpassato invece deve soffrire un attimino perché magari può essere portato fuori e di conseguenza perdere la traiettoria ideale VSK Euro Series che qui è alla terza gara, la terza prova dopo le due prime prove di Sarno e Portimaro e chi conduce la classifica è Nick Davis che conduce con 135 punti secondo è il belga della Cosmic Benjamin Bailey con 64 punti quindi un distacco veramente incredibile di quasi appunto 70 punti cosa insomma che può quasi chiudere il campionato già qui a Murolecese perché qualora la gara di oggi possa ottenere un grandissimo risultato di Nick Davis così come la gara di domani un brutto risultato di Bailey lui può andare a un risultato superiore agli 85 punti di vantaggio che è il monte punti della gara singola che appunto sarà a, scusate, blackout di memoria la prossima, Gabriele, dove sarà la prossima gara della VSK Euro Series? tu che fai sempre il professorone? io che faccio il professorone ti posso dire che la prossima gara sarà a Zwera bravissimo, a Zwera il 31 luglio mi hai fatto tornare in mente il calendario della VSK Euro Series appunto che si chiuderà domenica 31 luglio a Zwera e quindi qui in questa situazione addirittura Nick Davis può andare a chiudere il campionato perché il monte punti sono 35 punti per la finale 1 mentre 50 punti per la finale 2 in questo momento Bailey che è secondo in classifica è vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e non a posizione quindi comunque un po' indietro vediamo ad occhio che Nick va un po' sì forse ad avvicinarsi ma va a recuperare veramente pochi centesimi a Ignazio D'Agosto che comunque rimane equidistante da Alexander Albon che va, che conduce la gara testa giù per, qualcuno dice vincere l'aerodinamica ma in realtà qualcuno ha anche fatto degli studi, dei rilevamenti e ha scoperto che abbassandosi sul dritto sì forse si guadagna mezzo chilometro orario per una fazione di secondo e di conseguenza questa manovra che i piloti fanno sul rettilino serve per caricarsi, per dire dai sì che ce la faccio adesso a prendere quello lì davanti le condizioni in metro qui sono di un caldo torrido ieri nella giornata di venerdì quindi quando ci sono state le qualifiche la pista ha raggiunto addirittura i 78 gradi aiutata sia dal colore nero ma anche dal grande sole che c'è qui a Muroleccese non ci sono nuvole nel cielo come vedete ieri c'era un po' di brezza oggi c'è un vento con raffiche anche a più di 50 km orari e questo forse può infastidire la prestazione dei piloti ma sicuramente quindi forse in questo caso abbassarsi sul rettilino della pista di Muroleccese può aiutare perché vincere, guadagnare qualche centesimo abbassando la testa può portare qualche metro mentre Gabriel alza la mano Gabriel cosa vuoi dirmi? no volevo dire che non so se infastidisce i piloti questa cosa qua ma il vento sicuramente infastidisce le riprese e il commento questo è sicuro, ci tenevo a dirlo grazie perché noi sì in effetti siamo su una torretta a bordo pista da cui riusciamo a vedere spero riusciate a vedere tutta quanta la pista ma chiaramente siamo esposti al vento quindi il microfono prende un po' troppo aria però adesso come vedete Nick De Vries si è avvicinato a Ignazio D'Agosto e forse veramente può andare a prendere il pilota pugliese che qui in Ignazio D'Agosto su questa pista lui ha sempre ottenuto ottimi risultati così come anche Nick De Vries che ha il debutto nelle gare internazionali nel 2008 proprio qui nella VSK Euro Series in KF3 ha corso una splendida gara in cui è andato chiaramente a vincere con un distacco incredibile proprio questa sembra essere una caratteristica di Nick De Vries che ormai ci ha abituati a gare con galoppate solitarie ma adesso si è attivato il monitor dei tempi vado a vedere che il distacco in questo giro tra Ignazio D'Agosto e Nick De Vries è di 359 millesimi mentre tra Ignazio D'Agosto e Alexander Albon in prima posizione ci sono 3 secondi e 4 andando a guardare gli intermedi è al momento quello che gira più veloce in pista è proprio Alexander Albon e forse Nick De Vries è un po' tappato da Ignazio D'Agosto visto che fa circa gli stessi tempi che sono circa comunque di un decimino sopra i tempi di Alexander Albon quindi i 3 girano veramente appaiati al momento Alexander Albon quindi con le prestazioni con le prestazioni delle gomme appunto che hanno raggiunto l'optimum quindi con una pressione ottimale è Alexander Albon a far segnare il giro più veloce in questo frangente con 46 secondi e 736 millesimi al tredicesimo di 16 giri Ignazio D'Agosto ha girato ha girato in 47.089 e Nick De Vries in 46 e 945 quindi Nick De Vries sta rosicchiando un po' di mete e un po' di decimini Ignazio D'Agosto e forse nei prossimi tre giri può andare a superare il pilota pugliese della Tony Kart anche se comunque sono un paio di giri proprio che il pilotino olandese è alle spalle di Ignazio D'Agosto appunto Alexander Albon che ancora fa segnare il giro veloce sembra proprio poter godere di questa lotta tra i due anche se lotta vera e propria non c'è perché Nick De Vries è lì sempre a due decimi a 88 in questo momento Nick adesso è proprio veramente vicino è andato un po' largo in questa curva ma guardiamo gli intermedi e sì adesso in questo frangente il più veloce in pista è Nick De Vries ha girato addirittura qualche millesimo anche più veloce di Alexander Albon e sembra che proprio in questa curva quando l'ultima curva dell'ultimo giro perché adesso si entra appunto nell'ultimo giro della finale 1 della VSK Eroseries di Muroleccese e Ignazio D'Agosto è lì abbassato tutto in carena come direbbero i commentatori quelli bravi, quelli delle moto a coprirsi, a dire, a incitarsi a dire sì dai che ce la faccio ha iniziato a chiudere forse Ignazio D'Agosto perché Nick De Vries è lì che gira ancora in questo giro ha girato più veloce ma sembra quasi che non ce ne sia per i due che la situazione al momento a poche curve dalla fine sembra dover rimanere questa con Alexander Albon che è velocissimo e proprio va a guadagnarsi una splendida vittoria perché all'ultima curva è il pilota inglese della Intrepid con motore TM già sotto contatto con la Red Bull Racing quindi quella che porta Sebastian Vettel in Formula 1 ha vinto una speeda gara con Ignazio D'Agosto secondo Nick De Vries terzo in terza posizione c'è Chris Locke poi Jordan Chamberlain e poi Zenech Groman e Mikko Pacari della Maranello poi Carol Batz Libor Thoman Sebastian Baili e poi finiamola qui grazie